La Toscana è pronta a partire ad ottobre con la campagna vaccinale contro l'influenza. Oltre 248.000 dosi di vaccino quadrivalente, fa sapere la regione in una nota, sono già nei magazzini extra, così come 16.600 vaccini ad alte dosi ed il 27 settembre sono arrivate anche le 85.000 dosi di adiuvato. Tre tipologie diverse per vaccini per prevenire e controllare il diffondersi dell'influenza nei prossimi mesi. Per l'intera stagione sono oltre 1.030.000 le dosi già ordinate per una spesa che supererà i 10.671.000 euro. Ad essere vaccinati gratuitamente saranno i soggetti fragili ed anziani da 60 anni in su. Il vaccino anti-influenzale ad alte dosi sarà utilizzato per gli ospiti delle RSA, il quadrivalente pediatrico per i bambini con più di 6 mesi che soffrono di altre patologie, il quadrivalente adiuvato per chi ha più di 60 anni e presenta anche patologie concomitanti, mentre il quadrivalente non adiuvato sarà destinato a chi ha più di 60 anni oppure anche meno ma è un soggetto fragile, oltre ad essere utilizzato per la vaccinazione degli operatori sanitari e dei servizi essenziali. Anche le donne in gravidanza rientrano tra i gruppi a rischio a cui sarà offerta la vaccinazione. I vaccini si potranno prenotare presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, dove per i soggetti a rischio e con priorità saranno disponibili dal 14 ottobre 2022. E infine è possibile vaccinarsi contemporaneamente contro l'influenza e contro il Covid-19 usando vaccini bivalenti.